Ma, Bimbe, ma scusate, stavo sentendo che vi prude la testa? Eh sì, forse abbiamo sudato, però ci la vediamo Ok, va bene Hai la testa piena di bidocchi Allora, adesso controlliamo Ilari Non ci posso credere Ma, Ilari, anche tu hai bidocchi? Ma, e adesso? Come facciamo? Oggi non so proprio che cosa fagli fare a Chiara e Diego Mmm, nascondino? No Giocare fuori a palla? No Mi è venuta un'idea Quasi quasi, chiamerò Ilari e la inviterò a casa nostra Ciao Ilari Sì, volevo chiederti una cosa Ti va di venire a passare un pomeriggio in casa nostra a giocare con noi? Sì, ovviamente, con Chiara e Diego, se no con chi potevi giocare Ok, va bene Va benissimo Ok, ciao, a dopo Io scommetto che i bambini oggi non si annoieranno Lo sapete perché? Perché ho appena invitato Ilari, l'amica del cuore di figlia Chiara Ma non lo svegliamo ancora Perché passeremo una giornata insieme a lei con un sacco di scherzi Eh, vabbè, non vi anticipo ancora nulla Vabbè, bimbi Eh, venite o non venite? Vabbè Ciao a tutti Macchiette e macchiettine E benvenuti in questo nuovo Palle video Aspettate, ma è un video o un vlog? Lo scegliete voi qua sotto nei commenti Bravissimi Scegliettelo voi e... Vabbè, Chiara e scappata Ho intenzione di dirvi una cosa che non sapete Sapete chi sta per arrivare a casa nostra? Chi? Stiamo per ricevere una visita da un ospite segreto Non fammi pensare Tanto non ci arriverai mai Non lo so E una tua amica Chi è? Io Dimmi Ilari Bravissimo Sta per arrivare Ilari E passeremo una giornata Sto per forne Insieme a lei Quindi aspettiamo E iniziamo Finalmente è uscito il nostro libro In tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta In tutte le librerie E soprattutto non dimenticare Che avrai un super regalo Il nostro poster autografato Ma avete visto? Mamma, per quanto arriva Ilari? Eh, amore, non lo so Aveva detto che arri... Mamma Sì Ilari È arrivata Wender, anche tu aprirai Ilari? Ilari Ciao Ciao Finalmente sei arrivata Ecco Chiara, come solito L'hai fatta cadere Amore, poverina Si è tolta già le scarpe Vieni, 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 vieni Oh, finalmente Ilari si è arrivata a casa nostra Sei pronta per... Mi sto assoltato Mi sto assoltato Mi sta Ok Ci siamo? Sì Andiamo fuori casino Ecco, no, in teoria Io non avevo invitato Ilari per fare casino Non so se è stata una buona idea Vabbè Intanto Mamma Giulia va a sistemare la giacca Cosa facciamo? Giugamelo a scambino? No Ehi, cuccioline Ho da proporvi un super gioco Detto che tutti e quattro possiamo giocare... Rialzo, 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 rialzo Ma scusate, mamma Giulia non sa come è rialzo È tipo così, eh? No, no No, com'è? No, sì Allora Tipo a seta, a seta Tipo io prendo qualcuno Tipo devi stare qua, guarda Sì Devi vedere un oggetto che è alzato Quindi, sì Uno, due, tre Per cinque secondi devi stare qua E poi quando finito i cinque secondi Ho vinto Te ne vado da qualche parte No Ah, per tutto il tempo così devo fare? Sì E scambi E scambi E insieme a me ci sta anche di cinque secondi Il impostore mi può acchiappare Quindi l'impostore mi può acchiappare? E che quindi il impostore sia tu Ciao No, eh Devi acchiapparci No Vabbè ragazzi, io non è che ci ho capito molto Dai Dai Ti acchiappa Eh, ok Proviamo con una partita E poi vediamo Vabbè Uno, due Chiara, Chiara Tre, quattro Ecco, lo sapevo Mamma mia Io non ho più dieci anni Ecco, mi stanno chiamando Ilary, sto arrivando Giulia Ilary, ecco di Mamma, nessuno mi prende Tre Quattro, cinque Capirò No, non puoi salirò Ti posso prendere E come sal... No, aspettate Uno Due No Tre Quattro, cinque Aspetta Ehi Giulia Quasi Ti ho preso L'ho presa, l'ho presa Tocca a ilary Tocca a ilary Presa Io mi squalifico Non gioco più Me la vado Ciao Trovato cinque Presa Ok Ragazzi Non pensavo che Una giornata iniziasse Nel peggiore dei modi È arrivata ilary Mamma mia Che stanchezza Io non ho più dieci anni Mamma Giulia Se ne è andata E possiamo giocare In pace Sì Iniziamo Allora Ognuno può Tirarla tipo Così Così Capirò Un po' come vogliamo Va bene? Tieni Chiara Un attimo Che mi brudo la testa Tieni Anche a me Tieni Chiara Ma che cosa avete Da grattarvi? Niente Ci brudere la testa Non possiamo grattarci Ah Finalmente Giocano in santa pace Mamma mia Almeno cinque minuti Di tregua Ma Eh Fa pure a te Di brudere la testa Anche a me Siamo Muitantissime Non riesco a capire Ma perché Si stanno continuando A grattare Vabbè Forse Se vado A controllare Ah Pure a me Mi fanno brudere Vabbè Ma Big Bear Ma scusate Stavo sentendo Che vi brude la testa Eh si Forse abbiamo sudato Dopo ci l'abbiamo Ok Va bene Allora Terminate di giocare Che andiamo magari A farci un bel bagno caldo Che ne dite? Si Con la vasca Con la vasca E vi mettete il costumino E potete farvi un bel bagno Ok Si Ok E allora Io ho paura Io no Come c'hai paura? Non è che ci stanno le meduse Nella vasca Ma no Ma che meduse meduse Al mare ci stanno le meduse Ma che meduse meduse Ma secondo te In una vasca A casa di mamma Giulia Ci sono le meduse? Si perché in questa casa È sempre un bel bagno caldo Quello c'è anche ragione Te lo ricordi che cosa hai combinato a Chiara L'altro giorno Che l'hai buttata giù dalle scale? Era uno scherzo Lei ha ricitato Vabbè ragazzi Mi sono ricitato Non dovevi dire Vabbè ragazzi Se non l'avete ancora visto Cliccate sulla faccia di mamma Giulia Che l'ha andata Cliccata Cliccata Ma hai clicato pure te? No vabbè Cliccata Niente Ragazzi mi sa che è stata una brutta idea Ma vogliamo giocare a uno Eh si va bene Le cerco Allora questo No E questo Le noce Si Eccole qua Trovate Arrivo Ma ditemi un po' Devo giocare anch'io o no? Si dai Così la battiamo Forza e coraggio Perché a tutti e tre Batterò sicuramente Ok Chiara Mi raccomando Dalle bene Ok Allora Che strano Tocca prima me Allora Tocca me Giallo E rosso Blu Blu Butta una carta blu Devo buttare Tu c'hai la mamma Ce n'hai un altro Anche di un altro colore? O no? No No Vai Ma scusate Ma anche voi vi brude la testa? No ma c'è qualcosa che non va Vai Tocca di nuovo te Diego Cambio giro Cambio giro Cambio giro Mi fa veramente strano Cambio colore Dico giallo Ok Non tocco mamma Non tocco me Non tocco me Vai Via dai su chi tocca Mamma io voglio andarmi a fare la vasca E quindi non fidiamo Andiamo No No ma scusate Ma la partita No vabbè E niente Come solito Mi hanno lasciato da solo Vabbè dai E arrivo Voi ma che fate casini Arrivo Vasca 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 Sì ho capito Facciamo la vasca Accendila tu vetta Sì accendila Così siete ben di tardi Ma Chiara Che cosa c'è? Ma vi continua a pulire la testa? Vabbè intanto spostatemi un secondo Che riempiamo la vasca Io con di tardi mi farei mettere Il vostro pulino a tutti e tre Ok Ma Chiara che cosa stai facendo Tutti gratti la testa? Ancora tutti gratti Ma veramente? Chiara sei però tutti gratti Io non posso vedere la testa Quindi prima controllo te E poi controllo te Ok Ma non è che a scuola Qualcuno di voi Ha i pidocchi? Chiara Hai la testa Piena Di pidocchi Chiara Aspetta un attimo Di qua Mettiti qui Sì Eccoli lì Chiara Sei piena di pidocchi Ok Allora Adesso è un casino Perché sicuramente Se li hai presi tu Li ha presi anche Hilary Quindi Stai ferma lì Allora adesso controlliamo Hilary Aspetta 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 Non ci posso credere Ma Hilary anche tu hai pidocchi? Ma e adesso? Come facciamo? No ragazzi No vabbè Facciamo una cosa Io assolutissimamente Vado a prendere subito l'aceto E facciamo subito il trattamento No No per forza Allora Ma come abbiamo fatto con Diego Che ci stai tagliando i capelli? Eh quasi Allora state fermi lì Io vado a prendere tutto il trattamento E torno da voi Non ti Ma Non ti Non ti Non ti Non ti Allora Fa prima A farci pelate No vabbè Prima di farvi pelate Forse è meglio che usiamo un po' di aceto E vi porto lo spray Ok? Ok Mamma mia ragazzi Che giornata Ma come abbiamo fatto a prendere i pidocchi? Ragazzi avete capito molto bene che cosa è successo Ho lasciato i bambini giù di sotto in bagno E ho scoperto che nella loro testa ci sono un sacco di pidocchi E devo dire la verità È la seconda volta che succede E non so come comportarmi Ora vado a cercare un prodotto Perché l'avevo preso per mettere sui capelli Di Chiara e Diego Prima di andare a scuola Fortunatamente Ora Essendo che l'ho già acquistato Mi tornerà super utile Vado a cercare il prodotto E lo andrò a mettere nei capelli di Chiara e Ilari E Diego Questo Non ci voleva proprio Niente Intanto ragazzi Nel momento che vado a cercare le cose Volevo ricordarvi Di andare a acquistare Il nostro libro Qua sotto nel link in descrizione Oppure Comprarlo in tutte le librerie d'Italia Vabbè Intanto che leggo qualcosina Vado a cercare il prodotto per i capelli Per togliere i pilocchi Ma in realtà Non siamo proprio da soli Nella tua scuola Non ci sono dei casi Di pilocchi A voglia Una mia amica Spaglia Arrivano i capelli Fino a piedi Ti rendi conto Ok Ragazzi Ecco qua Meno male che Mi avevo comprato uno Qualche settimana fa Perché a scuola di Chiara Erano usciti Un sacco di casi Finalmente E' uscito il nostro libro In tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare Anche nel link in descrizione Cosa aspetti La notte dei sogni Ti aspetta In tutte le librerie E soprattutto Non dimenticare Che avrai un super regalo Il nostro poster autografato Infatti Chi ha i capelli lunghi Ti si attaccano Infatti Io e te Abbiamo i capelli lunghi Ed io ce li accorti E non li ho presi E certo Perché Ha i capelli corti Non vogliono salire A faticare A faticare A faticare Per loro è una montagna Non mi ci sono i capelli lunghi Sono E ci vuole poco Eh sì Hai ragione Aspettiamo la mamma Sì Procediamo con il trattamento Anzi Come altra cosa Mi conviene mettermi i guanti Eh bene sì Ok Allora Facciamo così Diego Tu vai un attimo di là Che poi lo facciamo Aspetta Per sicurezza Ecco Chiara deve andare a far pipì E quindi iniziamo con No 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 Facciamo così Guarda Ok Lo passiamo bene dietro Ok Eh puzza puzza Eh sì sì Così Così Ok Continuiamo Tac tac Ok Facciamo anche tutto sopra Oh ma che brava Ecco Poi facciamo anche così Come dicono Di metterlo anche sul colletto Così Ok Uno di qua Eh sì perché Si attaccano Dove si attaccano di più Sì Sì Che vuoi fare male Ok Ok Mamma Sì Sì aspetta Ila spostati un pochettino Che non te lo vorrei dare addosso Allora Uno Due Tre Sul colletto Ok Allora Chiara Adesso Onde evitare Che saltano Da una testa All'altra Anche tu Come ha fatto Ilai Assolutamente I capelli Da legare Anche io Ce l'avevo legati Ma poi grattando Mi si sono sciolti Ok Quindi Legateli bene Bravissima Ok Allora Diego Vieni amore di mamma Vieni che mi ti manca Tempo di spray Ok Chiudi gli occhietti Ok Tu hai i capelli corti Eh però Per sicurezza Nel caso È Ok Niente va Ok No Diego non ce li ha A posto Tutto perfetto Ok Chiara Andate a giocare Ok Voi andate a giocare Mi raccomando Non toccate nulla E niente ragazzi Fate attenzione Tantissimo A voi E soprattutto Fatevi mettere Sempre dalla mamma E papà Gli appositi Insetticida Da mettere all'interno Della nostra testa Perché i pidocchi Fanno male E danno anche Molto fastidio E niente Speriamo che Passino in fretta Ci vediamo domani Con un prossimo video E nulla Oggi Giornata di pidocchi Ciao Ciao Io ragazzi Non ne posso più Aia Avete finito? No Aia I capelli Odio No No Vabbè Intanto che voi litigate E io Me ne posso anche andare di là Bim bim C'è la mia mamma Nessuno gioca con la palla Non mi interessa Nessuno gioca con la palla Nessuno gioca con la palla No Vai vai che vinci Tiara Vai vai Diego sto giocare a la play No È un gioco da maschi Ok Dai vai No Diego Diego Posso giocare Levati Mamma 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 Sto leggendo Cosa c'è? Oh neanche te Te non hai mai tempo per me Eh ma sto leggendo Sto leggendo il nostro libro Cosa c'è? Vabbè Cinque minuti e arrivo Ora ti devo dire una cosa Non tra cinque minuti Sì Dopo Buffa Nessuno vuole giocare con me Forse Papà vuole giocare con me Papà 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 Ah Eccoti Vuoi giocare la chiapparella con me Oh allora sì Mi considera Papà Facciamo così Vuoi giocare con la chiapparella Questa partitella E va bene Dai Organizza tu dai Mi considera Dai che ci divertiamo Su Oh Idea Ciao Ciao Ma cosa voleva Chiara? Lo sai che i tuoi piedini Non hanno proprio Mamma Sì amore Posso chiamare la mia amica Ilari? Sì sì chiamala pure E digli anche Che può venire qua oggi? Sì 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 Che glielo pure Sì sì va bene E vai E tu se togli la gamba E dove lo Ma chi che deve chiamare? Poi non ho capito Comunque non si può leggere in pace Vicky osservava le due Finalmente è uscito il nostro Libro in tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo Il nostro poster autografato Ah almeno chiamando Ilari non mi sento sola E soprattutto la faccio venire qua Così giochiamo Ci trucchiamo Facciamo un sacco di cose belle Vi ricordate quante cose belle che ho fatto con lei? Tipo... Guarda 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 Io Devo E' Guarda Guarda Cosa c'è dentro Qui il telefono Stai quando è costato Ah che bei ricordi Ilari Ilari ti va di venire qua a casa mia a giocare? Va bene? Ok va bene Tra mezz'ora Ciao Ok Aspettiamo che arriva Mamma 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 Dimmi Tra mezz'ora arriva Ilari No non ho capito Te l'ho detto dieci minuti fa No non ho capito Tra mezz'ora arriva? Ilari Te l'ho detto mezz'ora fa Ma Ilari chi? Ilari Di Stefano e Ilari Ilari chi? La figlia di Stefano Ma Chiara ma chi ti ha detto di invitarla? Mamma Ma io non volevo che oggi avevamo ospiti a casa Mamma C'è un casino qua in questa casa Allora Fai i parlari No io in questa casa ogni volta non posso decidere Me ne vado Arrancia Sì No arrangiate Io non ti avevo detto che potevi invitare Ilari Sì quando te leggevi E queste cose non mi piacciono O caso che è un casino E oggi non avevo voluto avere ospiti a casa Vabbè fai come vuoi Sì ma Vabbè ragazzi Tra mezz'ora arriva Ilari Quando arriva Ilari? Oh eccola Finalmente sono arrivata da Chiara Ilari Ah Chiara sono appena scappata Vabbè ho appena mangiato Ma in gara di bolle Ok andiamo Ma aspetta Io non lascio fare le bolle Te ne insegno io Vieni Allora prendiamo quelli marroni Zip slime Ok Ti va duro Eh vabbè lascialo lì Anzi Cosa vorresti Da cosa vorresti iniziare Questo o questo O questi piccoli Questo qua Ok Quindi mi chiamo vengono apposta Ok Quindi chi fa la bolla più grande? Chiara posso giocare con voi? No È un giocatore a femmine Ma cosa imparo? Ok Ma Chiara È tuo fratello di ricordo Eh no È un giugniano Eh no È una lunga storia Fidati di me Eh vabbè Allora spiegami Abbiamo tanto tempo Sono scappata Eh E sei arrivato padre? Eh vabbè Ok Allora La facciamo insieme Al mio 3 3 2 1 Ok Riproviamo Voglio giocare all'ascoltino Ok Andiamo a giocare all'ascoltino Scoti tu Eh Condivido No No Vabbè Dimmi Digo cosa c'è? Lo sai che Chiara non vuole che gioca con loro? Amore ha invitato la sua amichetta perché si sentiva sola E cosa vuoi che ti dico? Prima lei già ha chiesto di giocare e tu le hai detto di no Cioè Tutti i torti non ce li ha Chiara eh Eh Cioè Deciditi Bo Bo Capire le donne Ok Allora Cosa stanno Combinando Un disastro Ilari ti trovo Ecco Stanno pure giocando all'ascoltino Uffa Uffa Ricopro Conto io Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Chiara Non sbirciare Traconto bene Otto Nove Dieci Ti vedo Undici Dodici Tredici Quattordici Quindi Vedo una qua Sedici Diciasette Diciotto C'è nove Non mi prenderà mai Chi c'è chi non c'è Se ti prendo conti te Allora Mi ha beccato Ilari Ti vedo Pena Anna Provocio Aiuta E Vabbè Fata E Non voglio più giocare a questo gioco Non mi piace Che chiamare ragazzo Anzi Facciamo uno spuntino Ho fame Ok Pari Nutella Sì Ok Senti La mia pancina Come è pronta Eh Sì Hai fame Mamma Pena Nutella Con succo Pena Nutella Pena Nutella Ok Ma Calmi Calmi Guarda ci sono pure io Sì Anche tu Diego Calmi Pena Nutella Per tutti Allora Per Ilari Poca Nutella Per Chiara Tanta Nutella Per Diego Niente Nutella Giusto No Eh vabbè Stavo scherzando Tanta Nutella Per tutti Allora Ecco a voi Quello più grande Per Ilari Quello più piccolo Per Chiara Dai io le ho mettendo Una fetta E guarda Addirittura Te ne ho messo due Tieni Guarda amore Tieni una fetta Per te Ok Te la fai bastare Che poi ti viene mal di pancia Ok Quindi Buon appetito E buona venda No Ilari con la pancia piena Ora si loggiona Cosa vorresti fare Ora Ora andare giù di sotto A toccarmi Eh no No Ilari No Ilari giù di sotto No Perché Eh perché no Va bene Ilari Vado avanti Io Calma Calma Sì Sì però Ti va a morire Forse La spinta Troppo Che è successo Niente Giulia Niente 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 Eh come Ilari Niente Ho sentito un rumore Quindi Niente No No Aspetta Ok Spostati Chiara Chiara Cosa è successo Chiara Cosa è successo Eh cosa è successo Quello devi dire tu Che cosa è successo Ok Ma si spinge dalle scale Soprattutto quando qualcuno cammina Eh perché Io A lei Ilari per favore Per favore Stai zitta Chiara 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 Amore Chiara Chiara Svegliati amore Svegliati Perché hai spento le luci mamma Ma come abbiamo spento le luci Chiara È tutto chiuso Amore Perché hai spento le luci mamma Chiara non abbiamo spento le luci Mamma Oh dimmi Chica Perché avete spento le luci Amore non abbiamo spento le luci Avete spento le luci No Chiara Guardami un attimo Mi vedi Eh Mi vedi Hai spento le luci È ovvero che non ti vedo Amore Guarda che non ho spento nessuna luce Chiara Eh non ti vedo mamma Allora vieni qua Saliamo andiamo sul divano Oh no Ragazzi mi sa che è diventata cieca Chiara Andiamo Eh no Sei te che hai spento le luci Non è niente Chiara Vai Sali Amore Amore Guardami un attimo Chiara Chiara Ma mi vedi No è ovvio Ho spento le luci mamma Io non ho spento le luci Chiara Vieni sul divano Che adesso vediamo come fare Eh vedi Chiara Giocando con le scale Sia tu che Ilari Vi potete fare male Io volevo andare giù Lei ha detto di no Se andavo d'accordo con me Non era successo niente Niente Eh però Ti sembra giusto Adesso Chiara è diventata forse cieca Ti sembra giusto Amore mi sto già venendo a piangere Chiama qualcuno Ma non ho il telefono Eh non mi interessa Prendi il telefono e chiama Ma sto per ottenere un telefono Non mi capire da nulla Chiara Allora aspetta che adesso Ti metto sul divano Vieni Dica È successo qualcosa Eh hai chiamato invece di seguirmi Hai chiamato qualcuno Hai chiamato Ma quanto non l'ambulare Ma è successo a Chiara E si è spingutato dalle scale E forse Chiara non ci vede più Ma non scendi le luci Amore È tutto acceso No è tutto spento Io vedo tutto spento Senti a che vedi tutto acceso Allora Chiara Sperate che ci veda Perché se no dobbiamo chiamare l'ambulanza Io non sono stato Il problema è che dobbiamo chiamare anche i carabinieri E soprattutto tuo papà Ok Ok Ci vedi? Mi vedi? Mi vedi? Chiara? Mamma gente le luci dove sei? Chiara sono qua Niente ragazzi Mi sa che dobbiamo chiamare l'ambulanza Vado subito a chiamarla Mamma mia Stai qua E Ilari Senza combinare disastri Ti pregherei di star a fianco a lei E non spingerla più Ok? Ma secondate se lei è santo iato Come faccio spingerla? Non lo so Ma io di te non mi fido più a questo punto Quindi comportati bene ora Eh non mi fido più Ruta Zitta Zitta Giara è caduta dalle scale E ora non ci vede Allora chiamiamo l'ambulanza Mi sto sentendo male ragazzi Sì salve buongiorno Sì per cortesia potrebbe mandare un'ambulanza In via Michelangelo 12 Sì La bambina è caduta dalle scale È cosciente ma purtroppo non ci vede Sì Va bene ok 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 Come faccio a rilassarmi È caduta mia fila dalle scale Non ci vede Cosa mi rilasso Eh sì va bene Correte per favore Basta Rilassati 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 Chiara ti va a giocare a me fuori con il sacco Non vedi che sto facendo questo Non vedi che sto ordinando una cosa su Amazon Quando ti chiedo le cose tu non mi rispondi Cioè per me non ci sei mai Sì come no Chiara vuoi venire a giocare con me fuori a pallone Sì ma ti sto vincendo Sì ma ti sto vincendo Io non mi hai bastato Chiara vuoi giocare a me con il pallone fuori Scusa racco Non ne ho voglia Dico non vedi che sto giocando con la Nintendo Chiara mi è soccato basta me ne vado Sì Chi vuolta Vuoi giocare con lei ma lei non c'è Vuoi un'altra solalla Anzi mi farò una fidanzata Alla faccia sua Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo Il nostro poster autografato Chiamerò la mia amica Ilari Oh ma chi sarà il telefono? È Diego Pronto Diego? Ciao Ilari ti vuoi venire a casa mia? Sì certo ma perché? Niente devo fare uno scherzo a Chiara Che scherzo Diego? Dobbiamo farla credere a Chiara che siamo finanziati Ma io e te finanziati? Ma no io non mi fanno proprio con te Finalmente mi farò un buon caffè Ilari? Hai il telefono con Diego? Sì certo ma perché? Uno scherzo sentito Cosa starà combinando Diego? Io prevedo un pomeriggio molto complicato Ilari, Diego e Chiara Immaginateveli tutti e tre all'interno di una casa E si tratta di uno scherzo Quindi qualcuno farà uno scherzo a qualcun altro No vabbè ragazzi Oggi caffè doppio Cosa? Mi sta peccando? Non mi vede più Oh per fortuna Quel furbacchione di mio fratello Pensa che mi sta ingannando In realtà no Il libro di mamma Giulia e figlia Chiara? No Può servire anche Ma a chi non l'ha ancora fatto Vai a preordinarlo su Amazon Nel link in descrizione Mi sta peccando Va bene Poi mi spieghi tutto Prova Prova Tra poco Che piano Benissimo Sto peccando Ilari Oh Eccola È arrivata Finalmente Diego Oh Finalmente Sei arrivata Ah Finalmente Diego Da quanto Allora Non stai aprendo Non ho un'altra donna in casa Forse ho sbagliato Che malla Allora Diego Di che cosa si tratta Questo scherzo Dobbiamo fare finta Che dobbiamo essere fidanzati Beh Non come fidanzati Ma no È uno scherzo Va bene Diego Solo perché me l'ha chiesto tu Grazie Ilari Si Diego Ma staccati Si sta parecendo Con Ilari Si sta bruciando Un Ilari Cosa C-co-co-co Io Mi è mancato Un gradino Forse Meglio che vado Di là No Ilari Non mi ammenta La poco Non giocavo Ma Diego Dai Continuo Fini Dai Non ti abbrinco io Però Diego Sto Bravo Nel Devo scogitare un piano Veloce Quindi Allora Allora Devo seguirli Devo seguirli Ehi lato Ho portato una pizza Grazie Diego Ma stavo già mangiato il panino Ah va bene Ma posso stare qui A chiedere con te Certo Diego Stalo in macchina Se vuole Vuole salire Un pallino Pallino Viene qua Pallino Sì Volevo dire È il nostro patatino Cosa patatino patatino Quello lì È il mio cane Già ti sei preso il mio fratello E ora ti prendi il mio cane Ah sì Sai cosa vi dico No Io mi consolo con la pizza Il cane è il nostro Ah Ah sì Tienditelo Ciao Bella Tanto io sto qua Con il mio dolce Pagnolino Ci sta credendo Che siamo fidanzati Sì va bene Andiamo a giocare Voglio che salta salta Cos'è Te lo regalo Tanto è di Chiara Quello lì è mio Basta Sono stufa Senti Diego Io vorrei che io Chiara rimanessimo amiche Non smettiamo con questo scherzo Assolutamente no Andiamo nel stasera Ragazzi Aiutatemi Non so cosa fare Cosa potremmo fare Ti devo fare il litigare Che idea Ma Chiara ci sta credendo Andiamo sul stasera salta Ok Andiamo Cosa Ora gliela farò pagare Guardate Ragazzi Ciao Cosa fate di bello Stiamo sul stasera salta Chiara Poi dobbiamo saltare Eh no no Arrivo Arrivo Starò lì sotto E gli farò rumore Cioè Gli farò tipo cadere Diego ma che è successo Vabbè Ragazzi Cosa state facendo Come Vattene gli essendo La ragazza di Diego Ah Ilali facciamo Il gelo Gli da chiave E come Abbracciamoci Ok Cosa Abbracciamo la fabbia anziana Stacca 3B E questo E il mio Ma E il mio E il mio No Ilali Guarda il mio telefono Vai fuori A casa mia Questa è casa mia Lei l'avevo Non so Cosa Ti non so Allora Queste Vanno fuori A casa mia Allora Apriamo questa Bellissima No Non è regolata A comprare Non veramente Chiara 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 Io sono stufata Vuoi imparare Vai fuori Via Chiara Via da casa mia Ehi Lo ti attaccare Quello è il mio ombrello E che c'è mega Queste bellissime Scarte Oh mamma mia Ho combinato Un casino Quella zucca E la mia Ah Sai dove te le butto Vieni Guarda E lo sai Questa zucca Dove te la butto Dove Te la butto qua E allora Queste case Vanno via Le butterò Hai visto Se l'avevo detto E te la buttavo Chiara Aria Vattene fuori A casa mia No Perché sono Financiata di Diego Vai tu No Figge Diego Non lo avrò Dice Tanti No Te la andrò Via da casa mia Aria Vieni Mi fatteli tu Da casa Aria Mi sento A fare I capelli Ma bambine Che cosa state facendo Non vi permettete Assolutamente No Bimbe Finitela No Ma poi scusatemi Un attimo Perché state litigando No Vabbè No Bimbe Lei è la fidanzata di Diego Non è nessuna fidanzata Bimbe Per favore Non mi fate correre Chiara Andiamoci No Andiamo Oh Credo Che ho combinato Sì Tu hai combinato Un guaio Molto grosso A casa Chiara A casa anche tu No Chiara A casa anche tu No Scusate Ma non avevate litigato Ah Vabbè Eh vabbè No io non ho capito Ragazzi Io non ho capito Ma hanno litigato Per quale motivo Cioè Hilary è fidanzata con Diego Chiara è gelosa E io non ci ho capito niente Vabbè ragazzi Facciamo così Ci vediamo nell'episodo di domani Ma Diego sei fidanzato? Come Diego No aspetta Forse Non ci ho capito nulla Finalmente È uscito il nostro primo libro La notte dei sogni Lo potete preordinare su Amazon Nel link in descrizione E se lo preordinerai ora Avrai una super sorpresa Direttamente a casa tua Non te ne pentirai Questa vita folle Spericolata E tutta la casa Diventa una festa Con te che corri via Così scamanata Destra e sinistra Mi gira la testa E sempre Sempre Reglazioni Spericolata Spericolata Questa la casa Non te ne pentirai Io ti ne pentirai Questa la casa